ciao a tutti e bentornati in un nuovo video riguardo i gp manager video di agosto penso che sarà abbastanza corto tanto non lo guarderà nessuno ma è un video abbastanza importante perché perché il 7 luglio 2021 quando ho letto questo hotfix questa comunicazione da parte della direzione di gp manager di solito la fanno quando fanno degli aggiornamenti e spiegano che cosa hanno aggiornato ho guardato cosa hanno aggiornato e mi è crollato il mondo addosso perché andiamo a leggere insieme e tradurre questo changelog allora il primo punto hanno corretto un errore per quanto riguarda i token che si spendono per cambiare il nome ai piloti allo staff c'era un errore che a volte ti ti addebitava i token senza cambiare il nome cosa fondamentale nel gioco però vabbè qualcuno piace quindi secondo punto hanno corretto il fatto che si potevano promuovere dei piloti della tua accademia anche se eri in debito anche se il tuo saldo era in negativo già qui mi chiedo come mai però vabbè è un errore che hanno corretto sinceramente io non sono mai andato in negativo anzi bisogna proprio impegnarsi con sto gioco per andare in negativo terzo leggo traduco dico no avrò sbagliato praticamente dicono che hanno randomizzato cioè messo casuale il premio giornaliero perché c'era qualcuno che tramite uno script che chi non lo sa è un micro programmino informatico poteva guardare dietro a ogni carta ogni ogni casella avete presente il premio giornaliero no che c'è il premio giornaliero grosso lo cliccate poi vi appaiono tre caselle voi dovete sceglierne una delle tre ecco c'era qualcuno che riusciva a selezionarne due a prenderne due invece che uno solo perché riusciva a vedere cosa c'era dietro e se selezionava almeno quello che ho scoperto io che se ne selezionava due poi andiamo a vedere come dove quando e perché lo facevano e già qui dico cavolo c'era qualcuno che poteva ottenere più di un premio giornaliero vabbè non è una grossa cosa però se io penso ai motori agli assetti anche ai soldi che ci sono a volte dietro a quelle caselle dico poterne scegliere due invece che uno e poi poterle scegliere sulle tre quella che non mi interessa per esempio avete tutti visto che io parti di ricambio praticamente non ne ho non ne ho bisogno perché se guardi ogni giorno i 4 5 video bonus che ti che ti danno per ottenere le parti con a livello 20 ai 20 parti più 5 di buono sono 25 e sei coperto per tutte le piste soldi problemi non ne ho ma poi ci arriviamo anche a questo e quindi c'era questo problema che però è stato risolto leggo il punto dopo che dice che i piloti e i piloti liberi non si possono più comprare al di fuori del mercato ecco questo è una cosa che all'inizio quando ho ho letto ho detto cavolo anch'io a volte avevo fatto anche dei video apposito quando ci si poteva fare la compra anche nell'ultimo video quello di luglio è una delle domande tra l'altro più richieste come si fa a fare la compra vendita di piloti e staff tra amici no tra due team che ci si conoscono senza passare dal mercato ecco non si può più fare pare poi ci andiamo avanti andiamo andiamo a vedere anche qui come dove quanto e perché perché anche qui mi si è aperto un mondo e infine hanno corretto il fatto che con degli attacchi di tipo flood che è una tecnica hacker praticamente poi magari ve la spiego bene con un disegnino e tutto c'era qualcuno che riusciva a costruire più di un progetto contemporaneamente cioè potevano invece che costruire una parte alla volta del potenziamento della sede centrale riusciva a farne anche più di uno contemporaneamente questa è la cosa su cui per adesso non ho ancora scoperto granché però non è che ci sia da scoprire cioè questi ci riuscivano poi come è una mia curiosità da informatico sapere come così per pura curiosità ho cercato nel forum inglese perché io di solito nel forum seguo sia il forum italiano che quello inglese guardando il forum inglese ho scoperto qualcosa riguardo a questi tre punti allora adesso andiamo a vedere andiamo nel forum perché c'è qualcuno che ha pure fatto il furbo e l'ha riportato come un bug andiamo a vedere questo ticket qua cioè questo tizio brasiliano che praticamente dici che si è trovato l'account in negativo di 12 milioni e non capisce come mai un amministratore del forum inglese gli risponde guarda che è stato notato che il tuo account ha ricevuto un numero non usuale di premi giornalieri a causa di un problema questo problema è stato risolto non gliel'ha detto proprio in faccia che hai barato questo problema è stato risolto e quindi tutti i premi guadagnati illegalmente tra virgolette sono stati rimossi dal tuo account qui c'è Antonio Ascari che gli risponde beccato e lui va avanti dice ma come si infervora ma come io il primo luglio avevo un milione sul mio conto poi il 2 luglio ho comprato con 5 token 8 milioni poi ho preso i due bonus giornalieri fa il finto tonto i bonus giornalieri quelli guardando i video ed è arrivato a 10 milioni e qui dice che questo bug è stato nel suo account è stato addebitato alle 22 quindi alle 10 di sera è stato azzerato tutto com'è possibile? dove sono i miei soldi? guardate la mia storia se non ci credete vabbè questo gli dice gentilmente guarda che probabilmente ti hanno sei accorso in una palità perché hai fatto un comportamento poco etico e qui interviene Jack Bashford che per chi non lo sapesse è il creatore del gioco che gli fa vedere proprio nella sua storia tra virgolette tutto è loggato ci sono i log di tutto quello che facciamo sul gioco ogni cosa è tutto registrato e gli fa vedere che lui ogni giorno vedete il 23 marzo il 24 marzo il 25 il 26 il 27 prendeva due premi giornalieri 1 alle 0037 1 alle 11 e 9 1 alle 045 1 alle 303 1 alle 00 1 alle 11 e così via il 28 e il 29 no magari saranno stati sabato e domenica 30 31 il 12 aprile ancora e praticamente gli sta facendo notare questa cosa e gli ha detto che ha sfruttato lui dice che ha sfruttato un bug cambiando la time zone quindi cambiando l'ora semplicemente riusciva a prendere più di un premio giornaliero adesso mi sembra talmente stupida come cosa che mi sembra molto strano che non ci abbiano mai pensato i programmatori del gioco però è un brasiliano so che in brasile ci sono due o tre fusi orari contemporaneamente magari non l'ha neanche fatto apposta l'ha scoperto per caso boh non lo so vabbè buona fede o no però praticamente c'era qualcuno che riusciva a prendere più di un premio giornaliero sfruttando qualche vulnerabilità sfruttando qualche bad del gioco ma prendeva più di un premio giornaliero scorrendo un po' il forum ce n'è anche altri che hanno lo stesso problema perché? perché John Bashford non è stupido ha fatto qualcosa per cui venisse a galla chi aveva fatto la malefatta tra virgolette cioè gli ha bloccato per una settimana i premi giornalieri così questi uscivano l'ho scoperto dicendo mi sono bloccati i premi giornalieri e lui diceva eh sì vi dirò la verità nel forum italiano non c'è niente e nessun italiano ha scritto nel forum inglese quindi lui dice che è una cosa molto poco diffusa solo uno su mille l'ha fatto comunque gli sono stati tolti tutti i premi indebitamente ricevuti e niente lui la chiude così io in Italia nel forum italiano non ho visto niente quindi immagino che è una cosa che in Italia non sapesse nessuno non lo so o comunque sono stati hanno avuto la capacità di stare una volta beccati di stare zitti comunque vabbè c'era questa cosa non è un granché però un piccolo aiutino ora parliamo del secondo punto allora praticamente qui dice che i piloti e lo staff liberi non possono essere presi al di fuori dal mercato l'eccezione della regola è che i driver e lo staff sono che sono già nel tuo team o che avevi già selezionato li puoi prendere cosa succede qua che vedete che potevate prendere dei dei piloti liberi o del personale libero tramite uno script che nel browser modificava vari url adesso poi lo vediamo lo vediamo è una cosa semplicissima allora prima di tutto dobbiamo passare alla visualizzazione del browser cioè come se fossimo su un pc questa cosa si poteva fare solo da pc vabbè allora vi metto delle immagini praticamente cosa succedeva che quando si andava su in pilota vedete che in alto nella barra dell'indirizzo c'è un numero ecco questo numero è l'identificativo del pilota nel gioco e ogni pilota o personale o altro personale quindi capi designer medici o direttore tecnico ha un suo ID nel senso che ogni dipendente nel gioco ha il suo ID cosa succedeva che se voi cambiate il numero di questi ID andate su un altro pilota o su un altro un altro personale un altro dipendente e voi facendo scorrere passando uno a uno sì è una procedura un po' macchinosa però passandone uno a uno potevate trovare dei piloti o dei capi designer o del personale con le caratteristiche che richiedevate e potevate ingaggiarli per soli tre token adesso come vedete qui quelli liberi c'è un grosso lucchetto mentre prima una volta si poteva per tre token si poteva ingaggiare e quindi questo era un bel vantaggio oddio adesso che sono a livello 20 sinceramente io i piloti me li prendo dall'accademia il personale non mi serve sì quando ho bisogno io vado nel mercato e le trovo anche anzi forse era questo il motivo perché il mercato non c'era più nessuna asta era quasi tutto vuoto e quindi questo era il secondo problema che è stato fixato il terzo problema riguardava la sede centrale allora adesso torniamo dicono che qualcuno riusciva nella sede centrale a sviluppare più di una struttura contemporaneamente ecco su questo questo non ho trovato come quando perché non sono riuscito a capire dice solo che in un forum dove qualcuno chiedeva spiegazioni diceva che John Byshford adesso se trovo poi anche il messaggio che ha scritto sul forum ve lo metto che lui ha sempre controllato gli attacchi di tipo flood sono dei vari degli attacchi hacker come abbiamo visto prima magari vi metto uno schemino che ho visto su wikipedia dove praticamente vi spiega come viene fatto questo attacco praticamente quando noi andiamo prendiamo l'esempio dei punti design quando noi andiamo a mettere dei punti design e decidiamo dove metterli quando quando clicchiamo su aggiorna noi mettiamo mettiamo qua i vari punti clicchiamo su salva praticamente il gioco si connette che è in locale si connette al server centrale che è iper controllato e si scambiano una serie di dati per capire che sei veramente tu e l'operazione che stai facendo ecco qualcuno riusciva tramite ovviamente programmini che provano a connettersi migliaia di volte al secondo riusciva a fare un po' impazzire il server e qui cioè riusciva questo no lui ha detto che questi tipi di attacchi li riceve abbastanza spesso ma comunque per evitare questa cosa lui non permette a un utente di connettersi più di una volta al secondo quindi se uno tenta questo tipo di attacco viene beccato subito in più perde tutti i suoi punti design quindi comunque lui lo becca subito anche perché uno poi viene allo scoperto perché se di colpo perde tutti i punti design anzi non li prova più perché è controproducente bene spero di essere stato chiaro vi invito sempre come sempre a iscrivervi perché di nuovo ho notato sempre che il 90% delle persone che guardano i miei video non è iscritta anzi vi faccio anche una richiesta stavolta oltre a farmi domande se volete approfondimenti su qualche argomento se qualcuno può aiutarmi io registro i video principalmente da tablet per avere la visualizzazione bella larga come mi aveva suggerito qualcuno però vorrei registrarli da pc perché lo schermo del pc è più comodo col mouse passo da una schermata e l'altra posso aprire più schede però non riesco a trovare un programmino abbastanza serio per registrare lo schermo sono tutti o a pagamento oppure sono gratis ma ti mettono dei banner in mezzo e non mi va l'unico che ho trovato che non ha queste cose è OBS studio però io non devo streamare se devo impazzire per impostarlo una cosa semplicissima su linux ce n'è un'infinità consigliatemene uno per windows va bene vi saluto e buone vacanze e buone vacanze